bernardeschi tutto regolare bernardeschi mette giù cerca kalinic destro secco rete rete che gol fiore di nere lo stesso copione del primo tempo badel verso chiesa prova il l'altra parte chi tira col cross a rientrare filtra il pallone attenzione Iguain rete la zampata di Iguain occhio a contropiede all'altra parte c'è insigne visto con la coda dell'occhio arriva Lorenzo insigne in area di rigore col sinistro Lorenzo insigne lo salta poi dentro al pallone per Cagliacon che sbuca Cagliacon Galliani ma non ci sta provando Cucca che copia la polla Iguain Cucca 2-1 attenzione a quadrato zona tiro quadrato grabbotta rete col meraviglioso quadrato manda in estasi allo Juventus Stadio Stavogones dentro parte il cross attenzione la girata rete rete Puzca trova il barco cerca un'idea chiesa copre Deulofeu chiesa sempre cercare Kalinic rete rete Kalinic ha colpito stavolta ha bruciato Deulofeu si è accentrato penetra Deulofeu la piazza rete rete che gol altro acuto di Deulofeu 2-1 Dzeko ancora un buon controllo Nainggolan Galliardini su di lui dribbling secco a rientrare Nainggolan prova il tiro a giro rete rete incredibile ripartenza attenzione 3 contro 3 Nainggolan Salai e Dzeko Nainggolan centrale accelera Medel su di lui prova il tiro rete ancora incredibile Nainggolan filtra il pallone Gagliardini filtra Peresic gira arriva Icardi rete rete riaperta la rosio penetra Dzeko attenzione Medel e c'è il calcio di rigolo Perotti lo specialista attenzione momento cruciale della partita destro rete non sbaglia è il modito Amsic sta partendo Mertens bolle il pallone per lui Mertens pallonetto morbido rete rete Mertens con lo scavetto attenzione sta arrivando Insigne tocco per lui Insigne si accentra improvvisamente cerca un pallone in mezzo e arriva il gol Uccell raddoppia ancora una volta Insiste pallone ancora vivo Diagovara non ci arriva ce l'ha girata c'è il gol grande sinistro esaltano Mangiucic e Dani Alves attenzione Belatia tutto solo mette dentro rete tutto regolare tutto regolare la Juventus è in vantaggio Belatia come un centro avanti pazza via attenzione Bonucci è uscito ma c'è buono il tocco per Deolofeu Deolofeu a cercare Bacca attenzione controllo rete rete Bacca posizione regolare anche per lui il pareggio del Milan qua in controllo tiro dalla ruba miracolo non è finita Steiner deviazione attenzione forse con la mano caccio di rigore credibile caccio di rigore tutti col fiato sospeso parte Di Bala sinistro secco rete rete la sbaglia di Bala esplode la Juventus tira la penetrazione che tira cerca l'1-2 che tira rete rete Juventus è in vantaggio terminà per quadrato attenzione Mertens 1-2 Amsic rete rete stavolta non sbaglia Amsic 1-1 pallone rimane lì attenzione a Mertens si gira cerca un'idea Amsic dall'altra parte rete arriva dall'altra parte Cagliacone Napoli in vantaggio grande azione esce Lukaku ancora verso Insigne un po' ritardo Stracoscia Insigne rete rete anticipa tutti Lorenzo il Magnifico 2-0 Lazio difficoltà qua Milik Valcross verso Gelischi insigne al volo rete che gol contropiede perfetto Lazio praticamente ferma 0-3 Sacchi ferre De Marco Candreva qui pescato bene cerca Palloletto Candreva rete rete Candreva grande gervità Bucata lo scambio ancora Peresic va in profondità c'è Icardi in mezzo ecco il cross per lui Icardi rete rete Icardi a 44esimo Suso ancora palla sul destro prova il cross basso la zappata e c'è il gol e c'è il gol accolcia le distanze Romagnolo grande ammucchiata parte il cross attenzione colpa di testa zappata pallone salvato attenzione la rete è verorzato la rete è verorzato di pallone occhio al tocco verso Keita Keita posizione interessante Keita si porta il parola su Baccino Keita 1-0 Lazio ha colpito Keita occhio al movimento di Salah quindi Strootman che va giù calcio di rigore calcio di rigore molto importante del match De Rossi parte De Rossi col destro e c'è il gol 1-1 De Rossi sembrava quasi un passaggio 1-1 eccolo Lulic col tocco morbido in mezzo De Rossi che sfiora il pallone prova ad arrivare basta basta conclusione deviata 2-1 Lazio il gol di Basta che trova l'angolo al minuto 50 tra parte 2 contro 1 Lulic potrebbe andare anche da solo Lulic Lulic apre Keita 3-1 3-1 Lazio minuto 85 ha fatto tutto benissimo Lulic allarga nella parte in cui opera insignia addomestica il pallone mette in aria verso Mertens poi Nagatomo sbaglia Cagliacol aderrete si gonfia la rete si gonfia la rete si gonfia la rete Napoli vantaggio al 43 Cagliacol che non perdona da quella posizione e segna il quarto gol personale all'Inter Latteforte il corazon poi Vangioni con il petto però Salah lo scambia con Dzeko ancora Salah la palla ancora per Dzeko una ruma pronta a lanciare in avanti ancora Paredes eccolo il cross go ruma parte il cross un po' basso deviato passa l'inciorette riappre la partita il Milan passa l'inci è arrivato il gol del 2 a 1 Roma che ha fatto due gol ha peso due pali rilancia il sienavanti per Dzeko la sponda terza e c'è Rau e gol Salah dribbling secco Salah Salah resiste Paletta lo tocca e c'è il calcio di rigore con il rosso per Paletta contro Donnarum De Ros parte Daniele il tiro goooool si accentra improvvisamente guarda verso Higuain lo va a cercare gran palla per lui l'appoggio Rete l'appoggio per Levinac ha seguito l'azione Juventus in vantaggio gran dormita qua della difesa parte il cross il colpo di testa centrale attenzione due volte De Rossi Rete posizione regolare De Rossi la Roma pareggia lo accompagna Lainggolan El Sharawi si accentra prova il tiro El Sharawi Rete Rete credibile trova l'angolo Salah a limite attenzione si infila Lainggolan tocco per lui testo secco Rete Rete Lainggolan non sbaglia grande scambio numero di Felipe Anderson che va via cerca il fondo lo trova travolto calcio di rigore calcio di rigore parte Keita 1-0 Lazio nulla da fare per lo specialista Andanovic Brozovic con la battuta in mezzo la deviazione il gol dell'1-1 pareggio dell'Inter con doppia deviazione insista ancora Candreva il cross la deviazione l'autogol di Hutt 1-2 si allunga il pallone diventa buono per Brozovic non c'è fuori gioco l'appoggio dentro la deviazione e poi il 3-1 di Eder 3-1 Inter si trova l'autogol 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 l'autogol